La reazione del narcisista quando tu fai silenzio stampa. Allora, intanto il silenzio stampa è un po' diverso dal no contact, in quanto non prevede un azzeramento dei contatti con il narcisista o con la persona, diciamo, verso la quale si fa no contact, ma prevede fondamentalmente una capacità di dare indifferenza, quindi non risponde. Quindi questo puoi farlo tranquillamente anche, come dire, se il narcisista è tuo marito o tua moglie, insomma, perché si tratta di somministrare fondamentalmente indifferenza. Indifferenza vuol dire che quello ti parla e tu non lo consigli neanche, che non lo consigli neanche come un essere umano fondamentalmente, ma neanche come un essere animale, diciamo così, gli dai la stessa importanza che daresti a un frigo rotto, una lavatrice rotta. Questo è il punto fondamentale. tieni presente che una relazione narcisistica è fondamentalmente deleteria per chi la vive, cioè per chi non è narcisista e vive una relazione con un narcisista, perché lui o lei, cioè il narcisista, sarà sempre, verrà sempre prima di te, i suoi desideri, i suoi bisogni, tutto quello che vuole, tu conterai nulla, dovrai essere ammirato costantemente, se no cercherà di punirti in qualche modo, dovrai spremerti l'anima, diciamo così, non riceverai nulla in cambio, lui si riterrà sempre superiore e quindi tenderà a distruggere la tua vita. Quindi la cosa interessante è che il silenzio stampa, cioè di fatto lì risomministra un po' quello che lui dà a te, per cui fare il silenzio stampa significa metterti tu al primo posto, dare tu valore a te stessa. Questo è un concetto molto importante, un concetto fondamentale che devi tenere in considerazione e devi portare avanti, perché soltanto se dai valore a te stessa riesci a trovare, diciamo, quella che è la tua individualità, trovare la tua felicità e riuscire un attimino a pensare a te, non focalizzarti sempre sul narcisista. Questo direi che è una cosa buona e giusta, è una cosa fondamentale. E poi ti servirà anche perché riprenderai il controllo. Tieni presente che il narcisista quello che vuole fare è toglierti il controllo. Il narcisista ti vuole togliere ogni chance, ogni possibilità di essere felice, perché vuole controllare in modo totale, globale, la tua vita. E questo è da tenere presente, una persona che vuole controllare globalmente, totalmente, inesorabilmente, la tua vita. E questo devi impedirlo, fondamentalmente. Quindi, il narcisista perderà il controllo se tu fai il silenzio stampa. Se è il suo compleanno, non gli mandi neanche un messaggio, fai finta di dimenticartene. Un evento importante, niente. Se ti dici qualcosa, dicono, guarda, scusa, non riesco, adesso ho da fare. Questo, quando hai qualcuno, diciamo, col quale non sei convivente, si spera che non sei andato a convivere con il narcisista, però, tutto è possibile. Se invece sei convivente, proprio fai finta di nulla. Lo tratti come, è ovvio che se ci sono dei figli di mezzo, e beh, con i figli ovviamente non devi far silenzio stampa, devi, però, in quel caso lì, chiudere la relazione, cioè arrivare poi alla separazione, ma anche per il bene dei figli, perché altrimenti, quindi lì serve un avvocato, diciamo, soprattutto, però serve la voglia di dividersi. Ma, diciamo, anche perché faresti veramente un danno a stare, a obbligare i figli a vedere questa situazione, no? Quindi, poi, come reagisce il narcisista? Beh, il narcisista reagisce inizialmente attraverso i ricatti, fondamentalmente. Cercherà di ricattarti a livello morale, cercherà di ricattarti a livello materiale, se potrà, se ci sono dei figli, cercherà di ricattarti utilizzando i figli come arma di ricatto. Questo è quello che tenterà di fare. Magari, in qualche caso, cercherà, se pensa che sia sufficiente, di ritornare alla fase di love bombing. Di solito lo fanno, prima di passare, diciamo, ai ricatti, così, provano con una fase di love bombing, perché qualora, diciamo, tu abboccassi, sarebbe di nuovo, come dire, poi per lui, facile, no? Gestire, per lui o per lei, ovviamente, sarebbe facile gestire la situazione. quindi è fondamentale che tu, però, diciamo, non accetti assolutamente nessun love bombing, non accetti assolutamente nessun ricatto e costruisci la tua vita trovandoti a altri spazi. Ripeto, se non c'è un legame particolare nel senso di matrimonio o cose di questo genere, il suggerimento è comunque di sparire e far diventare il silenzio stampa, poi un no contact si ne die, scaturire lì, perché intanto, come dire, non si può spremere il sangue dalle rape, fondamentalmente, da un narcisista non ci puoi ricavare niente, insomma, non nasce niente. Tieni presente che il narcisista comunque farà di tutto per tornare, questo te lo posso assicurare, magari non subito, perché prima puoi attestare il terreno, ma poi inizierà, come dicevo, con ricatti, con false scuse, cercherà di dire che è cambiata, che è cambiato, utilizzerà i social e poi utilizzerà i sensi di colpo, insomma, utilizzerà, segrapperà tutto. È fondamentale che, diciamo, poi il silenzio stampa diventa un qualcosa di più concreto, diventa un qualcosa di più definito, fondamentalmente. Quindi questo è un punto molto importante, è un punto fondamentale che ti consiglio di perseguire, perché altrimenti non è che avverrà un ragno dal buco. quindi, quando capisci che è un narcisista, inizia col silenzio stampa, ma metti in preventivo che poi ci dovrà essere quasi inesorabilmente, inevitabilmente, un passaggio al no contact e a un taglio definitivo del cordone ombelicale. Il passaggio intermedio del silenzio stampa può essere utile perché ti dà modo, insomma, di digerire un po' la cosa, quindi è un'ottima via di mezzo che tu puoi utilizzare, però poi alla fine, insomma, sappiamo che bisogna arrivare in queste condizioni. Bene, per questo video è tutto, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare.